Cinismo, cattiveria, determinazione. Sono queste le caratteristiche che mancano oggi al Pucetta e che invece il San Gregorio ha avuto il merito di mettere in campo. Quella contro la formazione di Mr. De Angelis è la terza sconfietta in quattro gare per il giallo-blu. Mr. Giannini schiera dell'unto tra i pali, la linea di difesa composta da Di Silvio, Di Stefano, Castellani e Tavani. I mediani di centrocampo sono Mattei e Drofano, con la batteria di tre trequartisti composta da Zazzara, Di Virgilio e Mercogliano, a supporto dell'unica punta, Barrow. Il San Gregorio dal canto suo risponde con Di Fabio, Fonti, Delic, Fabi, Camarà, Ricci, Lennart, Nanni, Arciprete, Menegussi e Lorenzo Cocciolone. Il Pucetta non parte male ed infatti il primo pericolo lo creano proprio i padroni di casa al nono, con Barrow che prende l'ascensore per il cross di Mercogliano, ma il suo colpo di testa non c'entra la porta e per un pelo di Virgilio in spaccata non trova la deviazione vincente. Due minuti dopo la bella verticalizzazione di Drofano per Zazzara, che si accentra a cercare lo spazio per il tiro, ma ne esce un passaggio per Di Fabio. Subito dopo Lennart lancia Menegussi, ma il suo sinistro finisce altissimo. Al diciannovesimo il vantaggio degli ospiti. Corner affidato ai piedi di Lennart, che pennella sul secondo pallo dove svetta Camarà, che di testa porta in vantaggio il San Gregorio. Quattro minuti dopo il Pucetta l'occasione di pareggiare i conti. Barrow viene atterrato in area di rigore e per Amatangelo di Sulmona è il rigore. Sul dischetto va il Gambiano, classe 2000, ma la conclusione termina sul fondo. Il Pucetta sembra accusare il colpo, in particolar modo Barrow, che prima si fa monire, e poi il trentaduesimo, un po' sbilanciato dagli avversari, ha l'opportunità di battere la rete dal limite dell'area, ma non riesce a inquadrare la porta e il suo destro si perde sul fondo. Al trentaquattesimo è il dadoppio degli ospiti che nasce sugli sviluppi di un corner molto contestato. La difesa gialloblu respinge il pallone fuori dall'area dove è appostato Nanni, che lo adomestica e lascia partire un destro beffardo che va a scavalcare dell'unto sorpreso un po' fuori dai pali. Al trentanuesimo ci prova Mercogliano da posizione defilata, ma il suo destro termina sull'esterno della rete. Ancora Mattei dal limite dell'area, batte di destro, ma Di Fabio è pronto e non si fa sorprendere. Allo scadere della prima frazione, Di Fabio compie un doppio intervento tutto da vedere e salva la porta nel Razzurra. In pieno recupero Camarava vicino alla sua doppietta personale, sempre di testa e sempre da calcio d'angolo. Nella ripresa il Pugetta riprende attaccando a testa bassa. Inizia Barro con un destro da fuori, ma ci vuole ben alto per superare Di Fabio. Poco dopo Zazzara con un tiro cross per poco non sorprende il numero uno ospite che si rifugia in angolo. Cerca gloria anche Tavani, ma il suo tentativo è da dimenticare. Tocca nuovamente a Zazzara, in acrobazia, ma l'impatto con il pallone non è dei migliori e la sfera si dirige docilmente tra le braccia di Di Fabio. Anche Di Virgil ha la possibilità di battere a rete, ma Di Fabio è attento. Sul capovolgimento di fronte, Lennart sfrutta una distrazione della difesa e fissa il punteggio sul 3-0, che purtroppo, ce ne scusiamo, non siamo in grado di mostrarvi. Il Pugetta prova a reagire e Idrofano ritenta da fuori area, ma anche questa volta il tiro non è irresistibile. Poco dopo Idrofano sventaglia per Mercogliano, ma il suo piattone al volo dentro l'area non inquadra la porta. Al diciassettesimo e secondo tempo, Paris, coperto dal palo nell'inquadratura, pennella una punizione per la testa di Idrofano, che finalmente riesce a beffare Di Fabio. 3-1 e il Pugetta sembra crederci davvero. Al ventiquattesimo Barrow lancia Paris in porta. L'ex retino si invola verso Di Fabio, ma il suo esterno destro lambisce il palo e si spegne sul fondo. Si rivede il San Gregorio con Lennart, che di sinistro va al tiro, ma la palla termina lontano allo specchio alla porta. Scampato il pericolo, il San Gregorio riesce a controllare la gara e al novantesimo va vicino alla quarta segnatura con Delic. Finisce qui una gara segnata da una giornata storta per il Pugetta. Probabilmente il rigore, se segnato, avrebbe potuto cambiare l'esito della gara. Ascoltiamo ora le voci dei due allenatori che commentano la partita dopo il triplice fischio di Amatangelo. Mister Pugetta-San Gregorio termina 3-1 per i Nerazzurri. Una giornata storta. Se pensiamo al rigore sbagliato che poteva già rimettere le cose in sesto, lei come l'ha vista? Sì, l'episodio del rigore è stato importante sotto il profilo pure mentale. Facciamo gol lì, uno pari, partita di ripresa. Comunque non stavamo facendo neanche male. Loro non avevano avuto grosse occasioni, a parte un paio di calcio d'angoli. Il rigore ci ha tagliato un po' le gambe, anche se poi mancava tanto, dovevamo fare meglio. Poi preso il secondo gol su un errore iniziale nostro, ma poi dopo una svista arbitrale è stata clamorosa. Calcio d'angolo che non c'era, però anche lì si poteva difendere. Gli episodi ci stanno dando contro, un po' di sfortuna, però certo che questa è una squadra che deve crescere assolutamente. Dove ha peccato il Pugetta nei due gol? Perché entrambi sono venuti da azioni di calcio d'angolo. Sì, azioni di calcio d'angolo, le marcature, serie di blocchi, sono stati bravi anche loro, perché poi una palla è caduta al secondo palo, erano in due di loro, c'era il nostro uomo in zona, però non l'ha presa, i loro passi e stacco ci hanno un po' beccato. Quindi sono stati bravi loro, è chiaro che quando ci sono i golle gli errori ci stanno sempre, però diamo bravura anche a loro. Nel secondo tempo comunque subito anche il terzo gol, inizio ripresa, il Pugetta si è svegliato, ha macinato gioco, ha segnato il primo gol della bandiera e poi ha prodotto anche tanto altro. Quindi insomma le basi ci sono per poter invertire la direzione? Sì, le basi ci sono, lo sappiamo noi che ci sono le basi, però bisogna metterci un po' di mentalità, un pochino più di cattiveria, agonistica, essere un pochino più compatti, sapere il momento in cui dobbiamo attaccare e difendere, c'è troppo scollamento, quindi è difficile così giocare su 70 metri, bisogna essere più corti e questo avverrà solo con il tempo e con il lavoro, perché comunque diciamo che la squadra è nuova. Ecco, il prossimo match con la squadra Rialtro-Ciatria, che si aspetta? Subito una reazione? La reazione me l'aspetto, è logico che dobbiamo fare meglio perché non stiamo facendo proprio il ruolino, non è buono, ci aspettavamo tutti di più, però dobbiamo adesso invertire la rotta e dipende sempre comunque da noi, dobbiamo lavorare di più, dare di più tutti quanti, a cominciare dal mister all'ultimo dei ragazzi. Mister Roberto De Angelis, San Gregorio Vincente qui a Canisto contro il Pucetta, un grandissimo primo tempo dei suoi ragazzi che ha di fatto chiuso la prima frazione e poi nel secondo tempo avete controllato, anche soffrendo in alcune circostanze, ma comunque tre punti che si portano a casa. Sì, ha detto bene, siamo andati bene, al primo tempo siamo stati subito aggressivi come gli avevo chiesto, noi siamo bravi, la squadra è stata fatta per fare bene il campionato, l'abbiamo giocato contro un'ottima squadra, un ottimo organico, un mister bravo li ha messi molto bene in campo, noi siamo entrati più concentrati di loro, abbiamo più voglia di vincere e l'abbiamo dimostrato. Camarà l'anno scorso ha giocato prettamente sul out, nel ruolo di terzino, quest'anno gioca come centrale e oggi è stato uno dei migliori in campo. Camarà è un ragazzo d'oro, fino a domenica lui ancora non aveva mai giocato in questo campionato, anche se avevamo fatto soltanto due partite, due partite di Coppa, si è fatto trovare pronto, può giocare sia terzino che centrale, naturalmente centrale, lui nasce come centrale, però può adattarsi molto bene anche a destra, è un ragazzo d'oro che si impegna, sempre presente negli allenamenti, il merito è suo di questa sua crescita. Campionato quello di promozione, il giorno ne ha veramente equilibrato, una difficile anche i risultati, vediamo il Montorio che recupera sul torno in parte, perdeva 3-0, come vede il suo San Gregorio in questa bagarre? Quest'anno è dura perché le squadre si sono attrezzate nel Terramano, nella Marzica, noi all'Aquila, l'Aquila stessa che è una squadra fortissima, sarà dura, io mi auguro di arrivare nella griglia dei play-off, o meglio la squadra è strutturata per arrivare almeno ai play-off, poi il campo dirà la verità perché squadre forti ce ne sono ma noi non siamo inferiori a nessuno.